In questo tutorial andremo a vedere qual è la relazione tra le soluzioni e i coefficienti di un'equazione di secondo grado. È un tutorial di natura teorica e gli esercizi li rimandiamo in un altro video. Consideriamo un'equazione di secondo grado scritta in forma canonica, ossia in forma ax² più bx più c uguale a 0, con a diverso da 0. a deve essere diverso da 0 perché se fosse uguale a 0 questa quantità non ci sarebbe ed avremo un'equazione di primo grado. E facciamo un'altra ipotesi. Supponiamo che questa equazione ammetta soluzioni reali, ossia il delta di questa equazione deve essere maggiore o uguali a 0. Le soluzioni possono essere sia distinte, e quindi delta maggiore di 0, sia coincidenti, ossia delta uguale a 0. Tenendo presente questa ipotesi, possiamo applicare la formula risolutiva per andare a ricavare le soluzioni di questa equazione. E in maniera simbolica le soluzioni x1 e x2 avranno questa forma. Andiamo ora a determinare la somma e il prodotto di queste due soluzioni. Partiamo dal calcolo della somma che risulta essere uguale a x1 più x2. Al posto di x1 e di x2 andiamo a scrivere queste due quantità che derivano dalla formula risolutiva. Riscrivo tutto sotto un unico denominatore ed osservo che posso semplificare radice di b alla seconda meno 4ac con meno radice di b alla seconda meno 4ac. Quello che mi resta è meno b meno b che risulta essere pari a meno 2b fratto 2a. Semplificando 2 con 2 posso dire che la somma delle due soluzioni, x1 più x2, risulta essere uguale a meno b fratto a. Vado ora a calcolare il prodotto delle soluzioni. E allora al posto di x1 e di x2 vado a scrivere quello che ottengo dalla formula risolutiva. E allora x1 per x2 può essere riscritto in questa maniera. Osservo che mi trovo di fronte a una differenza di quadrati. Questa quantità è uguale a questa quantità, mentre queste due quantità sono di segno opposto e quindi è un po' come se avessi a più b per a meno b. Eseguendo questa moltiplicazione si ottiene meno b per meno b che risulta essere uguale a meno b quadro e poi più per meno scrivo meno e radice per radice quello che mi rimane è l'argomento, ossia b alla seconda meno 4ac. Tolgo poi queste parentesi cambiando di segno e posso semplificare b quadro con meno b quadro. Quello che ottengo è 4ac fratto 4a quadro. Semplifico ora 4 con 4, a con a. E quindi posso dire che il prodotto delle soluzioni risulta essere uguale a c su a. Si ottiene in questo modo il seguente risultato. Un'equazione di secondo grado che ammette soluzioni reali, ossia delta risulta essere maggiore o uguale a zero, indicando con x1 e x2 le sue soluzioni, posso dire che la somma delle soluzioni s risulta essere uguale a meno b fratto a, mentre il prodotto p delle soluzioni risulta essere uguale a c fratto a. In questo modo abbiamo determinato una relazione tra le soluzioni dell'equazione e i coefficienti dell'equazione stessa. Vediamo ora come poter riscrivere un'equazione di secondo grado a partire dalle sue soluzioni. Se andiamo a scrivere un'equazione di secondo grado in forma normale, è possibile mettere in relazione i coefficienti a, b e c con la somma s e il prodotto p delle radici. A partire da questa equazione di secondo grado, se andiamo a dividere tutti e tre termini per a, possiamo scrivere x alla seconda più b su a per x più c su a uguale a zero. Ricordando ora che la somma s delle soluzioni risulta essere uguale a meno b su a e il prodotto p delle soluzioni risulta essere uguale a c su a, fissando l'attenzione in questa relazione e in particolare sul primo e l'ultimo membro, moltiplicando tutto quanto per meno uno, otteniamo meno s uguale b su a. E allora in questa equazione, al posto di b su a, potrò sostituire meno s e, al posto di c su a, potrò andare a scrivere p. E allora posso dire che un'equazione di secondo grado che ammette soluzioni x1 e x2 può essere riscritta in questa maniera, x alla seconda meno sx più p, dove s è la somma delle soluzioni e p è il loro prodotto. Otteniamo in questo modo il seguente risultato. In un'equazione di secondo grado ridotta a forma normale, il cui primo coefficiente sia 1, il secondo coefficiente è la somma s delle soluzioni cambiate a disegno e il termine noto è il prodotto p delle soluzioni. In altre parole, un'equazione di secondo grado a partire dalle sue soluzioni può essere riscritta in questa maniera, ossia x² meno x1 più x2 per x più x1 per x2 uguale a 0. E con questo termino il tutorial sulla relazione tra le soluzioni di un'equazione di secondo grado e i coefficienti dell'equazione stessa.